ragazzi bentornati sul canale allora cosa vediamo oggi i giochi di dicembre 2022 per il playstation plus grazie a tutti quelli che mi hanno visto per i due video che ho caricato relativi agli sconti su playstation plus se non l'avete ancora visto correte subito a vederle perché in questo periodo avete fino a 30 euro di sconto ma vediamo subito i giochi disponibili per il mese di dicembre comprese nell'abbonamento allora prima di tutto iniziamo a vedere quei pochi giochi che si possono ancora riscattare del mese di novembre prima di iniziare a vedere le novità vere di dicembre come vedete c'è lego awards disponibile che si può ancora scaricare che arriva dal mese precedente e sicuramente consigliato per gli appassionati ma vediamo il resto eccoci qua col primo titolo bio mutant un action post apocalittico sicuramente interessante sistema di combattimento è valido funzionale la grafica è dire interessante giudicate voi abbiamo un gran modo da esplorare sfruttando i vari mezzi di gioco che vengono offerti che ne dite divine knock out ecco un titolo per gli amati dei picchiaduro gioco in terza persona dai tratti mitologici con personaggi in stile cartoon data di uscita era prevista 6 dicembre quindi oggi è 19 titolo già disponibile sul playstation plus sicuramente accontenterà i fan del genere che ne dite altro super titolo mass effects legendary edition uno dei migliori giochi del mese è un gioco per ps4 contiene la raccolta dei primi tre mass effects è una remastered con grafica super in 4k ultra hd il gioco compreso nel playstation plus quindi possiamo giocarci divertirci fino al 3 gennaio 2023 sicuramente ne vale la pena di provarlo far cry new dawn ripartiamo dal montana dopo il far cry precedente contiene molti missioni secondarie ben congiugnate il tipo di gioco è il classico di far cry chiaramente se vi piace lo stile e il titolo potrebbe essere una buona opzione nel gioco troverete tante basi da ripulire a suono di proiettili da sparare il gameplay è solido e appagante la parte grafica come vedete non è niente male sta a voi a vedere se avete già giocato far cry sicuramente è una buona possibilità di poter giocare questa nuova avventura gratis anche se non è nuovissima ma comunque interessante nel pacchetto di giochi di dicembre fatemi sapere se giocate a far cry se vi piace far cry o se non volete giocare a fight cry assolutamente perché vi piacciono altri tipi di giochi mi raccomando scrivetemelo nei commenti e ricordo sempre ragazzi mi raccomando allungate il dittino sulla campanella e registratevi al canale mi raccomando il mondo degli umani sta finendo altro titolo la terra di mezzo l'ombra della guerra è un action rpg sequel della terra di mezzo l'ombra di morador il gioco è stato pubblicato sia per windows playstation 4 ora playstation 5 e xbox è disponibile chiaramente anche lui su playstation plus l'ombra della guerra continua la narrazione del gioco precedente è impostata tra gli eventi dell'hobbit il signore degli anelli come suo predecessore il gioco prende anche ispirazione degli adattamenti cinematografici del regista peter jackson fatemi sapere se vi piace se ci giocherete aspetto mi raccomando un vostro commento mi fate sapere così vediamo se portarlo sul canale o meno grazie intanto per ricostruire le sue armate e dominare su tutto la corruzione sarà incontenibile pillars ecco che arriva il pluripremiato rpg con tutti i principali aggiornamenti ed espansioni che sono compresi nel nostro playstation plus piegare il mondo la vostra volontà come esplorare profondità anche per la personalizzazione dettagliata dei personaggi dotato di un enorme mondo aperto un enorme cast di personaggi peerless of eternity 2 dead fire ultimate edition ridefinisce l'esperienza di gioco di ruolo per una nuova generazione titolo particolare per gli appassionati del genere the pedestrian mentre si gioca sembra riguardare un corto tornato pixar che ne dite il gioco vero e proprio rappresenta una realtà come tante altre pure è ricca di colori dettagli curiosi insolitamente vivace scopo del gioco di creare le connessioni fisiche tra le porzioni dello stesso cluster fermando il tempo sicuramente un gioco diverso dal solito fatemi sapere nei commenti mi raccomando se ci giocherete se vi è piaciuto sicuramente come vedete è un titolo diverso la grafica non è male è un qualcosa che va fuori dagli schemi sicuramente e per questo forse può valerne la pena di provarlo gigantosaurus ecco un gioco per bimbi e per appassionati di platform tridimensionali i giocatori devono esplorare i mondi di gioco e trovare le uova le quali vanno portate in uno specifico punto attraverso la mappa bisogna riettersi per capire come affrontare l'avventura di turno e superando sezioni platform classiche molto colorato un gioco per bimbi e per papà da giocare nelle vacanze di natale fatemi sapere se vi siete divertiti se ci avete perso un po' di tempo guardate è molto colorato e forse forse facciamo un saldo con qualcosa di leggero per svagarsi in questi giorni che ci aspettano presto per le vacanze cambiamo completamente in generale ragazzi di yazook the song of life questo gioco ha il pregio di essere un ottimo episodio della serie della sega assolutamente solido e convincente in molte delle sue meccaniche bellissimo da vedere la cura per i dettagli è davvero superlativa chi ha giocato con i giochi precedenti degli episodi precedenti conoscerà a romana in memoria le strade della zona ma di certo non avrà mai visto così ricco, vivace e suggestive specie durante le ore notturne quando le tantissime insegne luminose che compongono lo schema di gioco sono veramente spettacolari e uniche fatemi sapere se è il vostro tipo di gioco nei commenti e scrivetemi cosa ne pensate ci avete già giocato? è il primo di yazooka? o ne avete già giocati altri? scrivetemelo! MORTAL SHELL ultimo titolo di questo video ambientazione fantasy per questo gioco che guarda molto da vicino dark soul abilità del nostro protagonista di poter rivivere i corpi dei guerrieri caduti parte della storia rivive ricordi di questi uomini che impersoniamo all'inizio se avremo poche armi potremo potenziarle man mano che giochiamo con i vari oggetti che troveremo nella mappa di gioco rientra nei vostri titoli preferiti che giocherete nelle feste di natale mi raccomando fatemi sapere nei commenti spero vi sia piaciuto il video ragazzi registratevi al canale vi aspetto presto con nuovi video recensioni un saluto da Andrea a presto ciao